Questa, senza ombra di dubbio, è la volontà di Dio, la salvezza dell'uomo, degli uomini, di ognuno di noi. Dio con suo amore bussa alla porta del nostro cuore. Perché? Per attirarti, per attirarti a Lui e portarti avanti nel cammino della salvezza. Pregando sia fatta la Tua volontà, non siamo invitati a piegare servilmente la testa, come se fossimo schiavi. No, Dio ci vuole liberi e è l'amore di Lui che ci libera. Il Padre nostro, infatti, è la preghiera dei figli, non degli schiavi, dei figli che conoscono il cuore del loro padre e sono certi del suo disegno di amore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.